Il senso dell'edificità per quanto riguarda la privatizzazione di EFES, mi chiedevo se è un progetto accantonato oppure se si rivede dal perimetro di quotazione? È un progetto di cui vogliamo continuare a discutere, perché EFES ha fatto un ottimo lavoro con i nuovi contratti regionali, abbiamo, credo come Governo, fatto la nostra parte mettendo molti più soldi sugli intercity, che cambieranno davvero pelle, in senso anche estetico, nel senso che avremo i nuovi vagoni, avremo la nuova accoglienza, avremo il potenziamento del servizio, per esempio sulla Ionica, abbiamo portato i Frecciarossa a Bari, abbiamo portato i Frecciarossa a Potenza, quindi credo che abbiamo fatto davvero in questi mesi un lavoro straordinario e io sono molto innamorato del fatto che esiste in Italia una grande azienda pubblica che continua a investire a servizio dei cittadini e dei pendolari, quindi è un'escursione che dobbiamo fare ancora e che stiamo facendo.